Domenica il Marocco ha battuto il Belgio e conquistato un successo significativo in chiave qualificazione. La formazione marocchina, dopo un avvio affannoso, trova l'equilibrio tra i reparti riuscendo a limitare il Belgio. Nella ripresa le reti decisive. Sabiri sblocca il risultato con un calcio di punizione e nel recupero il Marocco trova il gol che chiude la partita con Abouklal, che anticipa tutti sul primo palo, piazzando la palla sotto la traversa. La comunità marocchina è ben presente a Caltanissetta, sono stati tra i primi migranti a trasferirsi nella nostra città e sono ben felici della loro nazionale di una qualificazione agli ottavi di finale da giocarsi giovedì contro il Canada. Bella squadra veramente, si è giocato molto bene, non manca l'indie della forza, tutte cose l'avevo completo. Siamo contenti per questa partita, speriamo che andranno sempre la banda così. Spero che arriverà il finale, però la verità, per essere sincero, anche al quarto finale siamo perfetti. Con la nuova squadra c'è Giovanilli, c'è Ziesh, c'è Sabiri, c'è il coach marocchino pure, giovani pure. E quindi speriamo al quarto finale abbastanza, per noi va benissimo. Grazie a tutti.